Buonasera signore e signori benvenuti Agli ottavi di finale del torneo Summer Cup Targati S Cup Si affrontano quest'oggi Apache contro Virtus Neapolis Gran bel girone da parte degli Apache Mentre la Virtus viene da un ripescaggio Ecco in maglia blé possiamo vedere l'Apache Mentre in maglia bianca la Virtus Neapolis Ecco passare le due squadre per il solito saluto Ricordiamo l'albitro Stiamo a vedere il tocco per la palla del campo Ecco i due capitani delle rispettive squadre Virtus e Apache Dopo la scelta del campo e la palla Ci apprestiamo a seguire questo attesissimo ottavo di finale Ciao ragazzi Primo tempo tra Virtus Neapolis e Apache Ricordiamo ottavo di finale del torneo Summer Cup Partita ancora sullo 0-0 Nelle prime fasi di gioco Attenzione tiro da lontano Da parte della Virtus Scheggia il palo alla destra di Serne Comunque ora andremo a seguire tutto il resto del primo tempo A dopo ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.